il natale non può iniziare senza una ghirlandina da creare ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te come state io malissimo in questo momento ho la febbre ma nulla mi fermerà dal farvi vedere la mia ultima creazione delle ghirlandine bellissime infommi gomma crepla non so come voi la chiamiate prima di spostarci sul tavolo da lavoro però voglio ricordarvi che vi aspetto in tutte le librerie online e fisiche con il mio ultimo libro il grande libro del colore un testo meraviglioso da regalare a natale con meno di 20 euro anzi vi dico esattamente quanto costa costa 18 e 50 ma in questo momento lo trovate in promozione a un po meno con meno di 20 euro quindi molto meno di 20 euro riuscirete a fare un regalo bellissimo adatto a tutti perché questo libro non è un libro dedicato soltanto ai cultori dell'arte ma è dedicato a tutti coloro che hanno curiosità passione per gli argomenti creativi che vogliano capire come utilizzare il colore in maniera consapevole quindi vi aspetto in tutte le librerie con il grande libro del colore e naturalmente se non ce lo avete ancora vi aspetto anche con il ricettario dell'arte la mia raccolta di ricette dedicate ai materiali per le belle arti tutti i materiali delle belle arti fatti in casa in maniera professionale e low cost in molti casi bene ora basta parlare spostiamoci di là e andiamo a vedere la ghirlandina in fommi come si fa ed ecco l'occorrente per le nostre bellissime ghirlandine di natale perfette come decorazione ma anche come segna posto iniziamo subito un righello una matita un paio di forbici una fustella per praticare dei buchini un pezzettino di fommi glitterato rosso un pezzettino un po più piccolo di fommi glitterato dorato dorato un pezzettino un po più grande di fommi glitterato verde questi colori possono essere anche intercambiabili un laccetto dorato un'anima di scottex o cartigenica pistola per colla a caldo e relativa stecca un taglia balza iniziamo subito tagliamo un dischetto da un centimetro circa dal nostro rotolino di carta igienica così ci servirà un rotolino di questi per ogni ghirlandina che vogliamo creare a questo punto prendo il fommi verde e prendo una striscia che si allarga circa 3 centimetri poi la dividerò a sua volta a metà quindi faccio due belle strisce lunghe 30 centimetri per uno e mezzo così e ritaglio ecco qui le mie due belle strisce e su queste strisce per metà della loro larghezza pratico una sfrangettatura cioè divido così facendo delle frangine più o meno tutte uguali vi faccio vedere dal rovescio che si vede meglio così e proseguo per tutta la loro lunghezza su entrambe le strisce a questo punto prendiamo la nostra rotellina e sull'interno mettiamo un punto di colla a caldo fissiamo un capetto e cominciamo ad arrotolare facendo in modo che la frangina sovrasti la parte chiusa del nostro del nostro formi arrotoliamo arrotoliamo e ogni tanto diamo sempre un puntino di colla per fissare il tutto tipo qui senza bruciarci mettiamo un puntino di colla e continuiamo ad arrotolare con un qualcosa di tondo o con una fustellatrice se ce l'avete io ce l'ho ma voglio farlo con voi a mano libera pratico una circonferenza sul sul formi dorato e ritaglio piego a metà e taglio in due il cerchio così creato a questo punto avvolgo su se stesso il formi e creo una sorta di campanella no creo proprio una campanella no una sorta di campanella quindi un po di colla a caldo e chiudo uguale e lascio ben prendere e anche con l'altra chiudo con la caldo quindi con due pezzetti che mi erano rimasti faccio i batacchi facendo una forma a goccia metto un punto di colla e li attacco e adesso unisco tra di loro le campanelle così lateralmente uno e due e li attacco qui sulla parte frontale della ghirlandina a questo punto prendo il mio laccetto punto di colla e applico il laccetto tra le frasche attenti a non bruciarvi mentre il tutto asciuga preparo l'ultimo pezzo il fiocchetto prendo un quadratino un rettangolino di fommi rosso vi dico anche la grandezza lo facciamo 5 cm per 3 lo piego su se stesso quindi piegando in dentro le prime due così e poi ripiegando le su se stesse così voilà e assicuro le mie pieghe facendo molta attenzione a non bruciarmi quindi prendiamo un po di fommi una striscietta e attacchiamola al centro in modo da accingere e rifinire il nostro fiocchetto e adesso applichiamo il nostro fiocchetto su sulle campanelle qui proprio tra le campanelle e laccetto un bel po di pol di colla a caldo e attenti sempre a non bruciarvi applichiamo con la rimanenza del rosso con la fustella tagliamo qualche pallina che andremo ad appiccicare quella lungo tutta la circonferenza della nostra ghirlandina e voilà è la nostra ghirlandina è pronta per essere appesa all'albero di natale fatene quante ne volete e se volete utilizzarle come segna posto potete agganciare qui in alto il cartoncino con il nome del commensale e farglielo trovare legato al tovagliolo insomma declinate questa idea nelle corde della vostra creatività vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo ciao ora ditevi se se non sono un amore queste ghirlandine ve le faccio vedere anche dal vivo sono una più carina dell'altra in video l'ho fatta a scura ma poi ho detto anche chiara ha il suo perché quindi ho voluto rifarla guardate che carine non trovate potete utilizzarle sia come decorazione dell'albero di natale motivo per cui le ho fatte io ma sono carinissime anche come fermato maglioli per la notte di natale anche perché non lasciano glitter in giro il fommia questo di buono pur essendo glitterato non lo disperde in giro più di tanto bene se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su una condivisione venitemi a trovare su tutti i miei social facebook tiktok instagram e naturalmente vi aspetto anche sui miei altri canali ombretta il mio canale di lifestyle e due quale una k il canale che ho insieme al mio genito gabriele con cui condividiamo tutte le nostre golosità culinarie non mi rimane che mandarvi un grande bacio voi andate a fare tante ghirlandine noi ci ritroviamo sempre qua per un prossimo video creativo da ombretta e da arte per te tutto alla prossima volta ciao